La mia azienda è un'azienda agricola storica, è nata a partire dai miei nonni e poi con il susseguirsi di mio papà e di mia mamma. Inizialmente avevano un allevamento da latte, quindi un allevamento di prisone e vendevano il latte ai caseifici. Nel 2000 siamo subentrati io e mio fratello e da lì l'idea di trasformare direttamente noi il latte nei nostri prodotti. Attualmente l'azienda da latte è composta da circa 50 capi di razza pezzata rossa italiana. Il latte lo trasformiamo in formaggi freschi e stagionati. Il prodotto tipico del nostro paese bollengo è il tomino. Il tomino può essere fatto fresco, mangiato fresco tradizionalmente così, o se no fatto stagionare, seccare e trasformato in tomino secco che a sua volta viene lavorato e messo per la conservazione sott'olio. Oltre ai tomini facciamo yogurt, latte, ricotta, primo sale, tutto quello che riusciamo a ricavare dal nostro latte lo produciamo. Da tre anni a questa parte abbiamo inserito anche come prodotto il gelato. Nel 2017 abbiamo aperto uno spaccio bello grande, oltre al formaggio affianchiamo ai nostri latticini anche la produzione della carne. Grazie a questo riusciamo a vendere al 90% tutto il nostro prodotto nel nostro spaccio. Nell'ultimo anno abbiamo dovuto aggiungere alla nostra vendita diretta anche l'asporto a domicilio. Dovuto purtroppo alla situazione Covid siamo riusciti tramite internet a pubblicizzare i nostri prodotti, pubblicizzare la nostra azienda e di conseguenza riuscire a portare tutti i nostri prodotti nelle case dei nostri clienti che con le restrizioni non potevano raggiungerci. Nella nostra azienda utilizziamo solo e esclusivamente il nostro latte. Più o meno abbiamo una produzione che varia dai 9, 10, 11 quintali giornalieri in media annua e lo trasformiamo totalmente noi. Per fare questo impegniamo circa 5 persone, sia per quanto riguarda la produzione e la vendita diretta. Negli ultimi 10 anni abbiamo pensato di robotizzare il nostro sistema di mongitura. Abbiamo applicato un robot di mongitura dove consente di avere una mongitura molto controllata e questo fa sì che anche il benessere dell'animale migliori in quanto avendo sempre sotto controllo la qualità del latte riusciamo a intervenire direttamente negli animali ancora prima di doverli trattare come medicinali. Nel nostro spaccio potete trovare direttamente tutti i nostri prodotti che trasformiamo dal nostro latte a partire dal latte fresco, che è un latte fresco pastorizzato, a breve conservazione, ma ha tutte le qualità del vero latte. Lo yogurt di diversi sapori, gli aggiungiamo marmellate e frutta fresca. E poi il formaggio stagionato, a partire dalle roviole più dedicate ai formaggi più stagionati, sempre più saporiti. Il nostro spaccio è aperto tutta la settimana, orario continuato dalle 9 alle 19. Quindi vi aspettiamo a Bollengo, via Statale 18.